Fruizione culturale condivisa parte ad Arezzo un progetto molto innovativo, l'affido culturale. Di cosa si tratta? L'idea è quella di selezionare, poi troveremo le modalità più adeguate, alcune famiglie che sono avvezze alla cultura e farle incontrare con persone che hanno voglia di fare esperienza culturale, in particolare bambini si tratta, quindi bambini di famiglie che magari sono meno abituati a avere questi momenti e insieme invece a partecipare a momenti teatrali, cinematografici, musicali, librerie. Chi è abituato fa conoscere la cultura, chi è meno abituato e attraverso questo affido, questa alleanza, questa amicizia, questo patto si cerca di ampliare la platea di fruitori di cultura. Partner dell'iniziativa è la Fondazione Toscana Spettacolo Onlus, la Fondazione Arezzo Comunità e la Fondazione Guido d'Arezzo e Officine della Cultura che curerà concretamente il progetto. È una cosa molto interessante, siamo i primi a sperimentarla in Toscana, hanno cominciato dalla campagna però veramente sta convolgendo tutta Italia e siamo contenti perché è un esperimento sociale e culturale. Come si svolgeranno questi momenti di cultura condivisa? Metteremo insieme queste famiglie, insieme a dei coordinatori, dei tutor di Officine della Cultura e queste famiglie insieme prima condivideranno appunto, si conosceranno, condivideranno i piaceri della cultura e poi andranno insieme a usufruire della cultura.